Dopo l'aumento del costo della benzina, delle bollette e delle materie prime, ora tocca le case di riposo. Di fatti nelle prossime settimane la permanenza degli ospiti all'interno dell'RSA, le famiglie degli anziani potrebbero subire un aumento di circa 2 euro al giorno, che significerebbe un incremento della retta di oltre 700 euro annui. C'è l'intenzione, almeno in alcune strutture, di aumentare ulteriormente le rette. Io credo che già le famiglie, in questo periodo, di crisi, di particolare difficoltà, di costante aumento di bollette e quant'altro, aumentare anche le rette sarebbe una mazzata notevole. Quindi auspico che le rette rimangano lì fisse, dove sono, perché se no diventa una cosa insostenibile. Inoltre Giuseppe Bruno continua a ricevere messaggi da parte dei parenti e degli ospiti che non capiscono come mai l'accesso nell'RSA continua ad essere negato, nonostante la curva dei contagi continui ad abbassarsi. Dobbiamo ricordare che abbiamo a che fare con anziani che spesso e volentieri non hanno quella cognizione di intendere. Pertanto non riescono a capire com'è la reale situazione. Non capendola pensano che i familiari li hanno abbandonati. la cosa non va bene. Pensando a questo fatto dell'abbandono, allora si sentono di peso per le loro famiglie e si lasciano andare. Non vorrei proseguirsi, adesso siamo verso la fine finalmente, si spera, della pandemia. Vediamo di accelerare i tempi perché finalmente i familiari possano riabbracciare i loro cari, non semplicemente attraverso un telefono, attraverso un tablet o dietro un vetro a distanza di 2-3 metri, che non è la cosa migliore per far sentire la vicinanza del proprio familiare al proprio congiunto che è all'interno della struttura con tutte le fragilità possibili e immaginabili.